Direttore, grazie per essere qui per questo scambio di opinioni. Io riprendo un po' gli argomenti che sono stati appena toccati sulla questione della resistenza agli antibiotici e antimicrobici in generale, ma in realtà anche sul tema della sicurezza dei pazienti in sanità, perché sono relatore del rapporto d'iniziativa che a breve vedrà anche lei nella forma attuale. Io pertanto ho avuto modo di conoscere e apprezzare il lavoro delle CDC nell'ambito della protezione della sicurezza dei pazienti e in particolare sul monitoraggio delle infezioni associate all'assistenza sanitaria, che si stimano colpiscano tra l'8 e il 12% dei pazienti ospedalizzati nell'Unione Europea. Sebbene gli studi condotti finora e le raccomandazioni del Consiglio vadano nella giusta direzione, perché sottolineano la necessità di formare il personale ospedaliero e di informare correttamente i pazienti, esiste un altro fattore che influenza notevolmente l'incidenza di eventi avversi in campo sanitario. Sto parlando di interferenza che la politica ha con le nomine delle figure professionali all'interno del campo ospedaliero, del settore ospedaliero. Le nomine politiche avvengono per criteri che sono spesso diametralmente opposti a quelli del merito e questo ovviamente ha ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, perché se un evento avverso è imputabile alla circostanza spiacevole è un discorso, ma se un medico commette un errore perché è dovuto alle sue scarse competenze, perché è nominato per motivi politici, allora questo è tutto un altro discorso. Sappiamo bene poi che si attiva tutto un sistema di protezione finalizzato a nascondere i danni provocati ai pazienti. Pertanto vorrei chiedere al direttore delle CDC se ha valutato questo aspetto relativamente all'incidenza che ha nelle infezioni e più in generale nell'incidenza di eventi avversi associati all'assistenza sanitaria. Grazie. Grazie.